bello a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi sono tornati su fortnite dopo un po di tempo ho nerdato su fortnite sono diventato a livello 40 e iniziamo a giocare provremo a fare sempre una victoria reale in un video eccoci qua ragazzi con i nostri balletti allora io li proverei qua raga però non lo so se no dopo o andiamo qui sotto dove ci sta troppa gente oppure qua pura l'ecola dove ci sta troppa gente quindi andiamo qui allora ok allora 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 per avere questo pacchetto dovevate arrivare una email epic games scritto che ci sono legati con twitch comunque si chiama twitch che sarebbe un programma che trasmette qui aiuti giocatori a trasmettere live su giochi come questo oppure rainbow o qualcos'altro e niente aprite le mail di epic che vi è stata ricevuta poi qua ci sono stato io poi dove è fatto tutti quei passaggi che vi sono richiesti poi e niente dopo avrete il pacchetto il pacchetto il pacchetto costo il pacchetto mi piace questo però questo quando voglio questo toglie 110 questo qua 105 come tanto me lo prendo lo stesso cassa a me la metà dietro un po' a fucire ci sta però mi salverò gli scolini ma niente c'è tutti gli armi però mi saranno pure le risorse cazzo posso mettere a posta di pompa verde 70 95 poi si sarà stato subito però vabbè allora ora mi ci vuole il silenzio potete si sentirà un po' alto questo video perché del gioco allora è una che ci sono stato già io a me la un po' non capisco a me la mia mira di merda a me la mia mira di merda non 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 ma non 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 cazzo 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 sono morto sono morto ultima terza ed ultima partita ragazzi non ci riusciremo mai a vincere uno insieme a voi oh 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 no Quelle cassette sono mie Già vedo una casa dentro il cavino Però la vado a prendere dopo C'era una cassa Ho detto a cassa si Ok 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 Qui sotto Pistola silenziata Pistola silenziata Non è possibile C'era questi qua Ah quel pompa Bambi Bambi stai band Eh no Andiamo qui sotto Ci deve sapere faccia la cassa Infatti non ci sa la cassa Ho detto che deve sapere faccia Perché tu non ci sei tutto stronzo Allora 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 Sento cassa pure qua Quindi Tutta mia Scudini ma un po' fucile Ah ma già c'era al massimo Palle Palò Sono a posto Come trappi Loot Messo un po' malino Ok 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 Prendi la cassa Prendi la cassa Prendi la cassa Prendi un po' di fucile No Ci sa manca la cassa Che bug Ah ma sta qui la cassa Non è qui Perché sento la cassa Quando non ci sta Ah Allora Qui sotto Allora Ah Non cazzo Prendo No Questa è come Allora Munizioni Mi si è buggato tutto Dio sto bug Spero che lo risolvi Il nostro bug Che vieni da Allora Percare Stasso Qui sopra Ficile da caccia Munizioni Un'altra Pumpa Brand Potremmo anche le fucile da caccia Però Non ce lo voglio Com'è andato Il cu**o loved Un'altra Un'altra Caccia S postpone Si Stasso E Gieng かio Un'altra Un'altra Ad Allora, allora, allora ci sta uno qui, 3-23, 8-23, no, cazzo, costruisce, costruisce, venga a prendere, no, cazzo, stanno 2, 1-1, me la push, come un cazzo, non so se non fosse domani, ok, basta, come non si fosse domani, eccolo, eccolo, l'ho fatto mentire di vita, cazzo, dove è finito sto sinunzio, dove cazzo è finito, sto andando pure qua, come è morto, cuore, il capo è ancora, ancora un cuore, il capo è freddo, tutti i testi di tutti, extre queens, costruzione, coro, oh cazzo no l'ho tolto tutto lasciatelo like iscrivetevi noi ci vediamo alla prossima video live quello che cazzo è bye bye ciao